400 milioni di malati, 4 milioni di morti in un solo anno, numeri da apocalisse che si riferiscono al diabete, patologia diffusa, pericolosa e ancora poco conosciuta, basti pensare che un malato su tre non sa di esserne affetto. Problema culturale dunque, prima ancora che medico, anche perché se è importante assistere chi è già diabetico, consentendogli una vita pressoché normale, lo è ancora di più prevenire la malattia attraverso un'alimentazione corretta e uno stile di vita sano. È tutto scritto in un opuscolo presentato nella giornata mondiale della lotta al diabete che il comune di Varese insieme a Lions Varese in Subra e Upe l'hanno realizzato. Sarà distribuito in modo capillare nelle scuole e nei luoghi pubblici, compresi 350 enti locali che fanno capo all'unione provinciale. Attraverso questa possibilità noi faremo da cassa di risonanza presso tutti i nostri soci affinché venga diffuso questo opuscolo, ma soprattutto venga diffusa la cultura del buon cibo e di una sana attività fisica.